Bella ragazzi, qui è JustTanked, siamo qui oggi ritornati su GTA V E siamo qui oggi con la mia moto, con la mia Pegassi Rufian Che poi sarebbe la Ducati Monster per fare pubblicità Siamo qui oggi sulla spiaggia di Los Santos Dove, qua vicino, Near Here, parla anche in inglese lui C'è la mia casa, la casa che vi avevo detto che volevo comprare nel video precedente Eccola qui, portiamo la moto in garage così vi faccio vedere gli altri veicolini che ci sono in garage Che poi alla fine non sono le macchine più belle del gioco Allora, qui abbiamo la Pegassi Rufian, qui abbiamo il Quad Qui abbiamo la Gallivanter, che sarebbe la Range Rover E qui abbiamo la LG, mi sembra Vediamo La LG, che sarebbe la Nissan E qui abbiamo la mountain bike Per fare i giri sulla spiaggia e per scendere velocissimi dal Monciliad Che è davvero una figata signori Allora, eccoci qui ritornati su GTA V Sono qui oggi per... non lo so Non so perché ho fatto questo video Cioè, non so cosa fare precisamente in questo video Allora, ovviamente dopo aver dimostrato la casa C'è una birra Il whisky Poi qua c'è la radio Che se mi ha rotto il cazzo E la spegniamo Poi, qui c'è la televisione gigante Che è costata di più la televisione di tutta la casa E qui abbiamo la stanza da letto Con i vestitini di quello che è rimasto di stanotte E qui abbiamo la doccia per fare, appunto, la doccia Se siamo a sporchi di sangue Allora, io direi di cambiarci signori Mettiamo i pantaloncini Guardate intanto che figo il mio tatuaggio E poi mettiamo una maglietta La mettiamo Mettiamo questa maglietta Questa Ok signori Andiamo E mi scuso Se in alcuni video Il... Il video è uscito tremolante Ma non so perché signori Se voi lo sapete scrivetemelo nei commenti O se avete visto dei video che lo spiegano Mettetemi i link nei commenti Così vado a vedere E' uscito Prima Esattamente un'ora fa Il video Sulla nuova serie di code che ho iniziato E quella lì ovviamente non finirà mai signori Allora, vediamo Non so cosa fare Vi ho già detto E... Mi è arrivato anche un messaggio da Lester Che mi dice che posso derubare i camion blindati Ma non ne ho ancora trovati in giro Magari chiamando Lester Ci dice dove sono Vediamo Lester Individo un'auto Individo un'aereo No non c'è No non c'è proprio Quando avrei deciso Sì ok scusa Scusa fratello Siamo qui oggi con la... Mi piace davvero questa moto Cioè la migliore ovviamente è la Vati 801RR Che quella lì è stupenda Quella con su tutte le pubblicità Dove c'è anche la pubblicità stronzo Ma questa signori guardate Poi anche L'ho truccato Ho tolto il parafanghi davanti L'ho messo dietro Ho truccato la marmitta Che appena riuscirò a sblocco Dio Lui rimane in piedi Per miracolo Che appena riuscirò a sbloccare Quella più bella La metterò Allora Gli omini con le taglie Sono in culo ai lupi Dunque non andiamo da loro Gli omini con le taglie In un video volevo entrare anche a Forza Ancudo Per vedere cosa c'è dentro Perché ho visto che in un video L'hanno fatto Johnny e Ron Ma non ho capito molto bene Cosa c'è dentro E voglio provare anche io a entrare A vedere se riesco a entrare Poi ovviamente appena sbloccherò le armi Arriverà il Rodo 5 Stelle anche qui Tanto che armi ho Canne mozze Pistola normale Pistola a combattimento Oh io direi signori Di fare una piccola rapina Siccome ho pochi soldi Allora No pistola da combattimento poi Bene Se sei aperto Tira fuori tutti i soldi Allora signori La figata che mi piace anche È il fatto che se noi parliamo nel microfono Aspetta fatemelo attaccare Se noi parliamo nel microfono Dell'Xbox Lui aumenta di velocità Ora mi sa che Con la mia lentezza Non riuscirò ad attaccarlo in tempo Infatti lui è già finito Di riempirci la borsina Dunque Lo attaccherò nella Nella prossima rapina Perché non è l'unica Che facciamo oggi Ecco Abbiamo scoperto cosa fare oggi Tu rimani lì fermo Allora Ok ragazzi Scusate se sono stato fermo Ma Ora partiamo Oddio Con che cazzo Ho sparato Via 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 Allora Ovviamente la parte in cui Sono andato di là La taglierò Peccato che non si possa far pausa Cazzo perché Mi hanno Sono venuti tutti poliziotti Sono riuscito a partire di culo Allora Vediamo se riusciamo Andare a nasconderci da qualche parte Tipo di qua Su dei monti Allora La polizia L'abbiamo schivata Intanto Quella che vedete lì Alla nostra destra È la La casa Di playboy La playboy Mansion Guardate signori Ci sono anche le feste Di notte Per quello che c'è tutto acceso Se avevo un fucile da cecchino Vi facevo intravedere anche le persone Allora Vedete là la polizia Che siamo Sono al rango 20 signori Non so quando si sbloccano le armi potenti Ma Il rango arriva fino al 100 Dunque Credo che Al 100 Si sbloccherà l'arma migliore La minigun Signori Se avete giocato la storia Vi ricordate la missione Quella Di derubare la banca A paletto bay E vi ricordate La figura Che avevano fatto i poliziotti Quando noi siamo usciti Con Con la minigun Allora Il microfono Sto un po' rompendo i coglioni Dunque Aspettate che lo metto a posto Bravo Meno male Si è fermato una volta in mezzo alla strada Perché una volta Nella attraversa la strada Mi hanno citato sotto Che mi hanno fatto perdere I 1500 dollari Che si perdono morendo Allora Una rapina L'abbiamo fatta Dunque Cos'è che possiamo fare Andiamo in giro a cazzeggiare No Facciamo Sono a quanti 7 minuti e 32 di registrazione Più il taglio Usciranno 7 minuti Allora Andiamo Quelli che rompono le palle Sì L'ho già fatto vedere Io direi di fare Facciamo questo Invito A Il giusto sconto O se no Invito A Il diversivo Ma no Dai Io direi di fare Così E facciamo Partecipa a una gara Ovvio Facciamo una gara Allora Non sono il migliore Ovviamente Questo lo sapete Perché A guidare Faccio schifo Vediamo Allora signori Siamo a Andare a vedere Quanti siamo Iscritti Allora Dobbiamo essere in Siamo in 14 Signori Sono molto felice Di questo E come ve l'ho già detto E ve l'ho già spiegato In altri video Allora signori Se riusciamo Ad arrivare A A 50 A 50 Vi porto il primo vlog Ok Adesso Vediamo se questo parte Gara terrestre Deserto di Senora Allora signori Se non Se non parte Vi Taglio il video Allora signori Siccome Questo Non fa più partire La partita Non fa più partire La gara Ma intanto Colgo l'occasione Per dirvi Di lasciare Un mi piace Di commentare E se non lo siete Già Di iscrivervi E Taglierò Fino a che Non inizia la gara La già stancata è tutto Bella Che cojone Ficcate Nel se si sbriga Fare sto scemo Beppo Bello ragazzi Sì e siamo Sì e siamo qua Ritornati Nella gara Allora Vediamo Che modo usare Ovviamente Useremo il Sanchez E lo facciamo Facciamo un colore Sì e se te rogo Signori No Voglio il rosa Ok Conferma Rosa Pronto a giocare Quanti Proietti Le ho nel corpo Oddio Andiamo Andi Ok Andiamo Non ci sono abbastanza Scommesse piazzate Dove cazzo Sta andando questo Io seguo il tizio Oddio Ho superato L'ho sverniciato Curva Tagliamo in mezzo Li campi Allora Andiamo Su di qua Veloci Sì Non la vinceremo mai Perché tanto Salterà un checkpoint Lui l'ha salta Ho parlato Io l'ha saltato lui Vedete che hanno messo Il checkpoint A ogni curve Fanno bene Volevo creare una gara E farla con i miei amici Ma Non so come si crea una gara Ok Lo prendo Mi sa signori Che l'abbiamo proprio vinta Vabbè Io spero Cavolo Se è un ninja forte Ok Non l'abbiamo Neancora vinta E infatti Questo qua Adesso ci svernicia Guardate Oddio Dai 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 Su 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 C'è una nata di culo Prima Oddio La recensione Sverniciato Non cadi più Ne è Stronzo No Abbiamo sbagliato Il checkpoint Non è mai caduto lui Sono ancora primo La fortuna Signore Ci assiste Dai 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 Eh mi sa che è finito Adesso il primo giro Cavolo Si Ok Nuovo giro Giro più veloce In una gara Ho anche fatto il record Del mondo Non so come ho fatto Si vede che nessuno L'aveva ancora vista Con la gara Nella gara Quella che si fa A scendere Da una missione Della storia Non mi ricordo Come si chiama Quel museo Lì Allora Andiamo Speriamo che lui qua Salti ancora Il checkpoint Io lo cerco Di prendere In pieno E lui mi sa Che ha fallato Questo però No invece L'ha preso Guardate come Gli passa interno Dai 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 Ah lui ce l'ha già No Sei una puttana Sei uno schifoso Andiamo a cercare Di riprenderlo Signori Spero che cada Così gli sta su bene Cavolo Potevo vincere La mia prima gara E lui mi ha sbattuto fuori Tanto cade adesso Il bastardo Figo Guardate quanto Sto andando a riprendere Cadi te Schifoso Ok Ok qua lo stronzo L'ho fatto E anche tanto Che culo Che ho preso Il checkpoint Non si sa Chi vince Signor Vince lui Ok Macchina di merda Si si Ha vinto lui Impossibile Che posso andare A vincere io Cavolo Stupida macchina Schifosa Signori complimenti 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 a LegendXMaxx Che ne abbiamo fatto schifo Ovviamente Allora Arrivato a secondo Su quanti Su due Quanti soldi Si però li prendo i soldi Prenderò 2000 E dai 2280 Non sono da buttare via E sono passato anche di rango Dunque Vediamo Ovviamente ha vinto lui Si Vattene a fanculo Che è schifoso Ah E' anche italiano questo Attenzione Italiano Italiano Legend Roma Maxi O De Roma Non mi ricordo L'ho visto Fene due secondi fa Allora Io Esco Signori Allora Il video direi di Sfermarlo qua Che Siamo a 15 minuti e mezzo Allora Da c'è stanca del tutto Per questo video Ci becchiamo A prossimi video Ovviamente Sempre su GTA Ah Ecco perché Il cavo scende Ci vediamo altri video Sempre su GTA Ovviamente arriverò Con nuove idee Perché oggi siamo arrivati Con nessuna idea Non avevo un cazzo da fare Allora Da gesto anche del tutto Se il video vi è piaciuto Mettete un mi piace Se non lo siete Se non lo siete Commentati Se non lo siete Iscrivetevi E Commentate In cosa posso E ditemi cosa posso fare Nei prossimi video Allora Da me Da Da Gino Si da oggi in poi Lo chiameremo Gino È tutto È Bella Ciao 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 Ciao